allora c'era Moot che bello sto mazzo Fragment che va a spaccare esatto c'era Fragment che va a spaccare tutte le cose che bloccano il cimitero Fatal Push perché quello era un meta con molti maghi secondo me Fatal Push possiamo anche abbassarlo con questo meta Crucias assolutamente si Peromancer assolutamente si Liliana era interessante onestamente con due allora qui c'era il discorso questo è un Mardu ma non c'è non ci sono le quelle altre le metterò onestamente le terre quelle là anche se avevo preferito mettere tutte le terre che pescano perché il mio dubbio è se è più forte questa o il carretto però mi dà fastidio il carretto non poter giocare dalla mano è vero anche che avendo Crucias noi comunque il tesoro ce lo facciamo quindi potrei mettere un carretto e una nave non lo so c'è il dubbio forse è meglio la nave sempre stai danni subito secondo me si forse abbassare solo le Fatal Push ma non lo so nemmeno in realtà potrebbero andare bene pure le Fatal Push il carretto è 2 GG quindi si è un casino giocarlo dalla mano è un casino giocarlo dalla mano 13 bianche forse erano pochine 16 nere perché c'era NERT cioè fondamentalmente qui l'obiettivo del mazzo è buttarti topo con looting e poi fare NERT o con MUT eccetera eccetera però io sono un elfo grande adesso e quindi mi sa che facciamo una cosa mi sa che facciamo una cosa sì infatti va bene con la nave eh non lo so in historic come può andare sto mazzo qua eh non lo so proprio però a me mi diverte un botto in Pioneer abbiamo visto che se l'è cavata bene e viva la topa sì cioè viva Grisfang in historic voglio capire Barz come stiamo messi con la topa perché alla fine è l'unico periodo degli historic fra gli historic recenti dove il tir 1 è paradossalmente mono G il problema è surgica al cazzo però surgica al male male infatti mi sa che abbassiamo Fatal Push abbassiamo Fatal Push e mettiamo gli scartini sicuramente sì abbassiamo Fatal Patata abbiamo anche Fragment e mettiamo due Tozze secondo me sì perché non c'è più Maghi predominante quindi secondo me si può fare così come si scrive adesso si scrive così perché ho messo bianco sbaglio sempre a scrivere Tozze vediamo così lo dovremmo trovare trovato sì sì Seize esatto ne mettiamo un paio e li mettiamo anche di side con anche le dures sicuramente quindi di side mettiamo anche le dures ovviamente andiamo a togliere i filtri e poi pensiamo un po' i matchup mettiamo dures allora pensiamo ai matchup in realtà contro Woodland P.T. Needle detto che noi siamo comunque veloci però P.T. Needle mettiamo un paio di P.T. Needle vediamo che succede o anche noi Surgical potremmo mettere siamo anche Surgical la tua considerazione è corretta quanto durerà Crucius con Bombardment infatti adesso ci pensiamo bene adesso ci pensiamo bene con Crucius Carretto preferisco Surgical onestamente ah tu dici Carretto perché non c'è Grisfang però sai Surgical è a 0 mana mi preferisco di più quello che sarà aperto di Carretto visto che c'è Surgical è meglio Surgical anche perché con Woodland Combo è troppo meglio Surgical secondo me 4 perdi Surgical in quel matchup la vinciamo così perché poi lui non può fare niente se le andiamo a togliere con Surgical e Wind Condition secondo me spingiamo così dopodiché mettiamo altri due Fatal Push allora altri due Fatal Push no no ragazzi niente Surgical di Main mi dispiace perché il meme sarebbe divertente è solo che la gente è permalosa ma il meme sarebbe divertente è solo che non mi va più di farlo però sarebbe cioè per me se uno mi prendesse in giro su ste cose io sarei contentissimo purtroppo non si può purtroppo non si può Push Push poi 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 Fragman toglie tutti i cazzi che ci serve di togliere però aspettate un attimo perché chi non gioca 60 carte non può scagliare la prima pietra a proposito della prima pietra Stone Overage che lui vuoi dire che non me la dà perché non la trovo Stone Overage morta io non so cosa sto sbagliando che filtro ho messo non si sa ok che cosa avevo cioè nello scrivere Stone qual era il problema no mo sono curioso cioè perché se scrivo Stone non me la dà no sta cosa ragazzi cioè adesso va cioè se scrivo Stone non me la dà devo scrivere Erec e me la dà chi chi ha la spiegazione a questo bug meraviglioso chi ha la spiegazione ma vedi che non sono pazzo io che a volte non trovo le carte ma non è cambiato niente cioè non ho cambiato i filtri se scrivo Stone non me la dà se scrivo Erec me la dà cioè non sto cambiando filtri non sto cambiando filtri non si sa cioè questa cosa è inspiegabile comunque vabbè Stone Overage contro Sacrifice è forte molto forte devo scrollare allora poi controllo se è quello non le ordina per mana quindi ecco devo andare fino non è un bug allora ok meglio Patal Push no aspetta Mono G sai che serve qua? sai che serve qua? come si chiama il removal che ti fa scartare la carta o pagare 3 punti vita quello che si gioca in in Pioneer remova l'instant che dice scarta una carta o paga 3 punti vita e distruggi creaturo placewalker qualcuno lo sa bitter triunfo esatto contro Mono G è forte questo e infatti mi sa che dato che Mono G è io mi sa che metto 4 qua e abbassiamo push dures una tozza pure tanto contro contro mettiamo dures 4 contro Mono G mi bitter triunfo più altre cose allora penso che stiamo messi abbastanza coperti ciao jesus salve caro penso che stiamo messi abbastanza coperti ma visto tutto sto cesso che facciamo che facciamo un flash ciao sguillo è che non non è un mid range capito c'è lo scopo di sto mazzo è fare topo quindi quindi non lo so è tornato il gioco qua no si vediamo che contro Mono G Crucius è molto forte contro Mardu Sacrifice no però contro Mono G Crucius è forte tanto eh tanto forte vabbè questo è poi lo possiamo rifare con Anert Crucius considera anche questo Bars considera anche questo e le assicuro che fare Anert into Crucius è bello i tesori sono morti colpa Garn Garn non deve vedere la luce va bene vediamo la topa però non quella in explorer che abbiamo visto che va bene funziona poi la rigiochiamo anche ma vediamo se funziona in historic vediamo se funziona in historic dove cazzo è invece draftare questa espansione no mi deve mi deve mi devo innamorare io tipo dj mi è piaciuta mi devo proprio innamorare per draftare in live perché è un po' più stancante off live mi diverto di più però off live non gioco al momento non ho tempo se giocassi off live farei solo draft in live non mi va cioè è più stancante la sega io arrivo dopo una giornata di lavoro un po' più pesante mentalmente andiamo dos come la drafterai beh se è una bella espansione come ambientazione come penso sì l'ambientazione mi piace tantissimo quindi sicuramente ci sono probabilità alte che io faccia più di un draft con duskmon solo che bloom borov è espansione power level molto basso soprattutto per me che non gioco standard perché non mi piacciono i formati rotanti tranne alchemy che però è un momento un po' così quindi per i formati eterni praticamente è come se non fosse uscita e quindi vediamo duskmon secondo me il power level di duskmon è un power level medio cioè nel senso che impatterà ovviamente sullo standard come giusto che sia però non lo so non ho visto ho visto la vratta che secondo me è da formati eterni però non ho visto tutte queste altre carte le terre sono forti secondo me vabbè ci sono tutti gli spoiler che abbiamo fatto li faremo su youtube c'è un sacco di video sconvito al giorno sugli spoiler per me sono forti le terre sicuramente sono molto forti la vratta 3 credo che sia la carta più forte dell'espansione fra quelle che ho visto fino adesso perlomeno poi tante carte carine sinergie un po' così è quello post modern horizon che entra roba in historic un po' è molto complicato orion io ho visto la sub ma non capisco perché obs non fa partire comunque l'alert io sto impazzendo perché non parte l'alert che è buggato vabbè grazie mille caro grazie mille grazie mille grazie mille io non capisco che sta succedendo se cambio qua parte l'alert grazie orion grazie grazie per il primo mese grazie gentilissimo 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 grazie grazie io non ce la posso fare non ce la posso fare vabbè vi ringrazierò senza notifiche oggi ragazzi mi dispiace mi farò perdonare gigi ma perché i formati di arena li hanno fatti diversi e non uguali al cartaceo in realtà è una bella domanda pioneer non lo so perché modern perché serve mettere troppe carte cioè pioneer non so perché ancora non hanno chiuso e poi hanno molte carte gli altri grazie acidi franzi grazie mille grazie per il prime anche a te ma porco due e non partono gli alert senza un motivo che sia uno in realtà l'ho capito forse il motivo no non l'ho capito non l'ho capito c'è stream elements buggato dai o devo aggiornare obs forse devo aggiornare obs comunque grazie acidi franzi grazie grazie caro anche a te ah qua intanto questo è un malligan giocando questa versione di mazzo questo è un malligan allora abbiamo looting abbiamo una nave da buttare questa è la kippo questa è la kippo e buttiamo giù mut crucia anche crucia si potrebbe buttare giù ma non ho ancora deciso se andare o no a casa della tipa ragazzi cioè dipende in base a quello che mi dicono su trez poi io decido cioè io faccio quello che mi dicono cioè sto ascoltando opinioni ciao caro grazie ancora via doppio di questo non mi da fastidio degli alert non mi sto concentrando è veramente stranissima come cosa questo è jagmot adesso sono partiti gli alert vabbè devo andare così grazie ai sub grazie ai due sub di prima ragazzi adesso avete anche sto pensando un attimo allora a me credo che tozza devo andare avanti col mio piano tozza la scartiamo scartiamo mute forse vediamo o scartiamo tozza forse scarto tozza anert ok dobbiamo trovare il topolino ok altro topolino scartiamo scartiamo pigomanza perché lo faccio con anert dopo crucias ok non attacco stiamo lutando piano piano abbiamo visto già 13 carte in due turni in keeper ok ok che c'entra l'olio comunque non ho capito che fa buxton per capire di che parla slader andate su trezza ragazzi eh grande ah sono contento sono contento vedrai che andrà sempre meglio andrà sempre meglio morgan grazie caro per la sub grazie mille morgan per il primo mese immagino allora qui facciamo anert anert su pyro scarto i fragment no scarto l'altro pyro no devo lutare ormai qua le costazioni di principio niente terra impossibile va bene vabbè corda jacomot e vaffanculo dai e andiamo a g2 sicuro va bene non voglio manco vedere qua non siamo partiti benissimo così come come tutto contro jacomot sono veric va bene qua no beh si ce le mettiamo un paio e abbasso liliana che è un di più anche fai dal push in realtà non è che serva molto vediamone una surgical no oddio per il per il lupo però abbiamo stone of eric surgical a meno che non togliamo gli agmot non ci serve a niente in realtà perché il lupo vogliamo di bloccarlo con stone of eric surgical eviterei svantaggio cart sono on the play ma tu bars stai commentando perché letto su trezzo nel frattempo luigi parla ma non lo sto seguendo ecco abbiamo il topo per romancer teniamo vai ok mut lutiamo la nave altro topo ok ok la fa su questa o la fa sull'altra non ha senso farla sull'altra perché se non la fa su quella rimuovo questo parte ma questo è pazzo ma è pazzo ma scusami perché ha surgical perché ha surgical ok ha surgical ha i surgical e falla va eh surgical è un problema questo mazzo non ha surgical allora non l'ho capito non t'ho capito amico mio cioè te lo tolgo non ti ho proprio capito no no non l'ho capito dici che lei vuole farmi un surgical e cioè non ho niente nel cimitero che mi deve togliere sta nave è flash questo questo potrebbe rompere il cazzo potrebbe farlo potrebbe farlo potrebbe farlo a meno che ma sai che a me non frega veramente un cazzo vai catherine benvenuta benvenuta catherine si su youtube trovi tutto caro caro benvenuta ho Senti, facciamoli sti 4 danni. Alla fine lui è a 7, quindi è a 5. Eh già. Oh! Abbiamo vinto un game! Chi l'avrebbe mai detto? Io no. Abbiamo vinto un game. Allora, visto che c'è questo affare qua, le Fatal Push... Abbiamo anche Fragment però. Un'altra Fatal Push la mettiamo on the draw. No, però non so niente, ma secondo me tozza la posso quasi... Cioè avendo Fragment preferisco tenere le Fatal Push perché se la tua risposta al mio cimitero è quella affare lì... Sai che ti dico? Ma sti cazzi... Terrei così... Vediamo. Vediamo un po' come la va. Giocare Grisfang in Historic effettivamente non è proprio da chi ne capisce tanto, e questo va detto. Però noi siamo pazzi. Ci vogliamo vedere e togliere il sospizio. Grisfang penso che sia il mio mazzo preferito della storia. I punti stile, certo. Anche perché sto mese non mi frega un cazzo di fare la top 250. Top 1002 la facciamo di default senza impegnarci. Sì che... Keep. La topo è sempre la topa, eh, lo so. Pilgrim, ok. Allora iniziamo a lootare qua, va? Che c'è il topo qua. A secondo. Butto due terre. Sono pazzo? Sì. Il doppio negro mi serve per Liliana, l'ho tolta Liliana. Il doppio rosso mi serve, ce l'ho. Visto che sono on the draw, evito di farmi danni con queste. Vai. Pazzo per Gesù, assolutamente sì. Quello va tolto, eh. Peddler. Peddler mi toglie Grisfang, va bene. Dove andare così. Ma io li tolgo il mana a questo, a me che mi frega. Io ti tolgo il mana, così, nel mio. Sorseghi. Looting. Questo come c'è, eh. Però è meglio di 18 terre, probabilmente, no? Vai. Tutto mi sta a fare un video. Ok. Ok. Ma è fastidioso. Il mutt me lo tengo. Ah, Nert, vediamo. E' logico. Allora, Crucias. Noi ci stiamo specchiando, cioè stiamo... Beh, allora, questo qui ho, adesso penso di farlo. Penso di farlo. Se no, potrei fare un'altra cosa, che è molto bella. Questa cosa è bella. Mi piace. Mi piace. Allora, io vorrei togliere Might. Perché se per assurdo faccio veicolo. Diciamo così, va. Chi è? Chi è? Chi è? Merill. Merilli. Però sono tutti alert falsi di StreamElement, queste, secondo me. Corda. Vai. Che fai? Che fai? Che fai? Uh, Cloud. Le notifiche oggi non ce la fanno. Grazie mille, Garo, per il ride. Grazie, grazie, grazie. Benvenuti a tutti. Benvenuti ragazzi. Aspettate un attimo, è qua. Devo prendere delle decisioni. Ma questo che cazzo deve rialzare? Niente. Faccio un cazzo qua. Mi serve a togliere questo, ciclo con quello a fine turno, va. Ti faccio lo shoutout, Cloud, caro. Te lo fa un mod. Gaspar, do qualche mod, ti farà lo shoutout. Passo. Qua vedo cose strane. Puoi esiliare quattro tipi, sì, lo può fare. Puoi esiliare quattro tipi. Eh, o è, che te devo dire, va bene. Puoi esiliare quattro tipi. Ok. E farmi otto danni. Ok. Vai. Questa la cicamo perché è inutile. Lui ha pure mana open, questa... Non è più il suo momento. Eh. Guarda, ha fatto il push qui, non mi faceva schifo, eh. Facciamo Crucias. Colpisco dalle ombre, grande. Facciamo Crucias e via la terra. Questo Trump l'ha vinto, che cazzo faccio. Vabbè, il primo esperimento non è andato bene. Non ci arrendiamo. Il mazzo che non è comunque va bene, vediamo. Abbiamo perso da quell'affare e là due partite su due. Due su due le abbiamo perse. Però, prima di esprimere, diciamo, un parere su questo mazzo, capiamo se può andare meglio. Secondo me, non lo so se devo me alligare una volta in più. Qua i raid arrivano dopo sei anni. Grazie, Cloud Ferrerra. Tutte le notifiche arrivano dopo dodici anni. A fine live arrivano pure tutti i sub. Le notifiche dei sub. Ignoro perché questa cosa, però... Va bene. Però ma ricarica... Aggiorna, ricarica... Boh... Chissà. Lo scopriremo. Se troppo è so timide, è... Allora... In historic è più dura, eh. Questo è un test, infatti. Sennò torniamo in Explorer. In historic è più dura questo mazzo, eh. Perlomeno Best of 3. Dici di martedì, le tope non li piace troppo. Qua teniamo perché ho looting, cioè le terre usciranno, dai. Posso anche scartare... Qua ci può... Cioè, non ci credo. Cliff. Cioè, tu non scrivi qua da due mesi e scrivi il giorno che io gioco il tuo mazzo. Qua questa cosa è... Cioè... È folle. Come stai, cari? Tutto bene? Qua buttiamo giù il topo. Qua possiamo fare... Allora, se qua per qualche motivo folle succede quello che deve succedere... Cioè, qua possiamo fare il... Qui si può scombare di secondo, raga. Si può scombare di secondo. Chi è che lo fa? Chi è che lo fa? Chi è che lo fa il comando? Si può scombare di secondo. Abbiamo un earth. No, cazzo! Poteva esserci... Poteva esserci... La bellezza poteva esserci. Non c'è. Vabbè, io comunque faccio così. Ti gran cazzi. Vai. Tutto bene, ma la tua potenza di vita reale chiama. Ah, vabbè. Allora, lei adesso... Mi vuole dire che siccome ha trovato, diciamo, compagnia, allora non viene più a seguire le live. Va bene, va bene, va bene. Prendiamo atto, prendiamo atto. A proposito di Topa. Cancelli. Io farei così. Ci prendiamo. Paromancer. Scartiamo. Mute e Fragment. Questa la possiamo buttare con looting. Però faccio la giocata. Perché se faccio Mute e pesco... Se faccio Mute e pesco anert, scombiamo sto tuno. Quindi me la rischio. Me la rischio. Me la rischio con il Mute. Via Partelion. Non è anert. Però ci stava, secondo me, a provarci. Vai. Stato, se lui è Cancelli, non so come lo vedo. Non so come lo vedo Cancelli contro la Topa. Eh, Cliff, hai fatto bene. Hai fatto bene. Hai fatto benissimo. Eh, Biodragon, non se l'aspetta. Sto prendo godimento brevemente, giocando... Ma infatti la cosa, diciamo, il nemico di Magic è quello in realtà, eh. Non le chiacchiere. Il nemico di Magic è quello che è successo a Cliff. Gentilmente, grazie. È quello che è successo a Cliff. Al mio paese è Little. Al mio paese è Little. Esatto... Exactly Little. Viva! Eh, la Topa, ragazzi, anzi, batte. Cancelli contro Topa. Allora, qui non abbiamo P.T. Needle. Non abbiamo P.T. Needle. Non abbiamo P.T. Needle. Eh, sì. Oh, a differenza di... Cioè, di Cliff, sicuramente sì. Allora, forse un P.T. Needle va messo, comunque. Ho capito che sto match-up è impossibile, però... Fatal Push posso togliere. Mettiamo Tozza? No, più che Tozza mettiamo Dures. Che devo mettere? Surgi che non serve un cazzo. Mettiamo doppia Dures, bo, per metterla. Mica c'è a Cratu che sto mazzo qua. Non c'è a Cratu che sto mazzo qua. Metto... Lascia una Tozza, Dures, bo, vediamo. Tu te le metti accanto e passi la serata nerdando al PC su Arena. Eh, non piace questa cosa qui alle signorine. È un problema. È un problema questa cosa qui. E quindi là il dubbio è... Cioè, poi le cose che succedono su Tre... Che racconto su Trez, poi dipendono anche da quello. Ciao Amon, come stai caro? Allora, non dovrei tenere... Non dovrei tenere. Ma tengo, perché sono pazzo. Ho looting, one earth, ho tutte ste cose. Ecco. Premiato. Ciao Ardyn. Premiato. Dammi la topa. Niente topa. Secondo me la troviamo la topa. Gli audio di Amon. Punto esclamativo suoni per vederli tutti. Grande Amon. In bocca al lupo, caro. Pairo. Terra e... Credo Mute. No, Fragment non serve a un cazzo, dai. Erghosting. Cioè, in realtà non me ne frega niente. Teniamo aperti di Fragment, così. Eh, questo vive nel 3000, spelunking. Ma sai che faccio Fragment? Ma sbaglio? Secondo me no. Peggio di così non poteva andare. Peggio di così proprio era impossibile che andasse. Cioè, questo che blocca i volanti. Vabbè, lo sappiamo per il futuro. Mute. Però lo posso togliere. Però lo posso togliere. Ok, va bene. Dai, Grisfang, su. Ok. Ma io no. Perché non devo fare Crucius qua? Cioè, a me che mi frega. C'ho Crucius. Grande Klee. Ehm... Greeter. Ok. Dio, spelunking. Va bene. Sta partita comunque è folle. Cioè, Maizend ha trovata, Explorer. Qui dobbiamo trovare, dobbiamo mettere P.T. Needle per il futuro, dai. Questo è un mazzo che auto perde la P.T. Needle su Maizend. Vabbè, che se noi becchiamo topa non riusciamo a fare comunque un cazzo. Quanto costa il test del DNA? Boh, 300 euro. Però, perché hai fatto il test? Vabbè, no. Fatti i tuoi. Non chiedo. Domanda. Scusa se te l'ho fatta. Scusa se te l'ho fatta. Non volevo... My turn. La topa non c'è. Riprendiamo poi romanze. Riprendiamo poi romanze. Fragment non mi serve a niente. Questa è la realtà. Topa. Niente. Topa niente. Però magari la troviamo così. Ah, per vedere malattie genetiche. Ok, ok. Pensavo... È arrivato il topo. È arrivato il topo. Però ha vinto turno dopo, lui mi sa. Vabbè, qua ci pratta. Ok, qua ci pratta. Me ne frega qualcosa. Faccio comunque... Greeter. Adesso lo possiamo scartare dopo. Lui ci pratta qua. Titano. co2. Non vinciamo sto turno, noi. Eh, qua serviva un ptnito. Non vinciamo sto turno. Quanti ne ha? Vabbè, questo non mi frega niente. Ha vinto? 10, 1, 2, 3, 4. Vabbè, questo attaccando li fa. Non ho modo di toglierlo. Non ho modo di toglierlo, no? Eh, mi sa che vince turno dopo, lui, purtroppo. Siamo arrivati a un turno di ritardo. Cosa potrei pescare? Un cazzo. Dai che lo distruggiamo questo, maledizione. Non c'è interazioni. Cioè, questo lo distruggiamo. Cioè, non c'è interazioni. Cazzo, Fragment. È arrivato Fragment. Eh, oh. Terra l'abbiamo giocata già. Eh, oh, dov'è andare così. Terra l'abbiamo giocata già. Peccato. Fragment qui vinta. Perché non poteva attaccare e prendere gli altri. No, e non ci credo. Sì, Needle Block ha made sense. Perché non è una manability. Oppure ne ha già dieci. No, non ne ha dieci. Attaccando con Titano si prende gli altri. Eh, purtroppo. Peccato. Con un turno di ritardo, una terra in meno. Vabbè, andiamo a G3. Sono dieci? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Sì. Ma non lo so, Bars. Cioè, abbiamo visto mezzo mazzo. Cioè, metà mazzo abbiamo visto, eh. Abbiamo visto mezzo mazzo, eh. No, ma non la metto, Petit Needle. Perché, cioè... Quando succede sta roba di nuovo? Quanto succede di nuovo sta cosa, dai. Fragment li teniamo e teniamo tutto. Forse Liliana mette uno scartino in più. Sì, sì, dieci con quella che ha preso dopo. Eh, no, questa... Questa è difficile da tenere sta mano. Dobbiamo sculare looting o qualcosa del genere. Dai, teniamola. Gross Spiral. Looting. Ho sentito dolore fisico. Ho sentito dolore fisico. Dai, porco, due, però... Dammi looting. Grazie, Evan, per la trentatresima sub del canale. Grazie, grazie mille, caro. Grazie, grazie. Arriverò l'alert fra 18 anni. Riuscirà anche l'alert. Grazie, grazie mille, caro. Grazie, grazie. Tra l'altro, con Cliff abbiamo anche litigato, tu vedi. Noi non siamo rancorosi. Bravo, bravo. Fragment io me lo tengo. Cazzo mene. No, non me lo tengo. Ok. Ok. Ok, Gross Spiral. Arriverà anche l'alert. Non oggi. Fra sei mesi. Fragment io. Fragment io. Fragment io. Fragment io. Fragment io. Fragment io. Penso sia a casa sua. Allora. Fragment io. Non c'è in chat. Eh, la mia amica deve stare in chat per sempre. Io sono attivissima. Non l'abbiamo litigato. Con la mia amica pesca. Attacco. Poi le dico che avete chiesto di lei. Grisfa anche prende Parthelion. Parthelion. Facciamo lo screenshot. Eh, non c'era lo story. Lo story finta. Eh, qua, mates... Oh, siamo andati sempre lenti. Siamo andati sempre lenti. Oddio. Posso togliere prima... Non ho il malabiano. Cazzo. Ho solo un malabiano. Vabbè, poi tutto storto deve andare. Questo devo toglierlo. La realtà dei fatti è che questo va tolto. Questo va tolto. Vabbè. Dieci con questa. Questa no. Nove con questa. Nove con questa. Vai. Via cripta. Eh, oh, buono so, ragazzi. Siamo sempre un turno indietro. Siamo sempre un turno indietro. Dove andare così. Eh, griter nel caso, sì. Ecco, dopo 18 mesi è arrivato pure l'alert. Grazie, Evan. Grazie, grazie, grazie. Ammetto di essere una testa gal. Interessante questa missione. Interessante questa missione. Non ci diamo per sconfitti. Però piti nido lo metto. Non voglio rischiare di nuove situazioni del genere. Cliff Soren. Perché adesso hai trovato compagnia, ti sei un attimino calmato perché ti sfoghi diversamente. Bravo. Un piti nido lo metto, dai. Ok. Che posso togliere? Troppe, troppi cosi. C'è una tozza, sti cazzi. Tozza forte contro mano verde, però anche due. No, forse facciamo così. Tolgo una Tukes. E un nido lo voglio mettere. Anche contro mano verde è forte nido alla fine. Sai che ne mettiamo un paio di piti nido? Ne mettiamo un paio di piti nido, va. Abbassi una Surgical. Bitter contro mano G è forte forte, capito? Togli a Place Walker, non lo so. Ho smesso pure con cose illegali che non si devono dire. Bravo che hai smesso. Cose illegali. Sì, probabilmente sì, Patrick. Potevo anche tenere tre. Sì, probabilmente. 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 dammi un matchup vinciamone una poi ho capito che in historic è più difficile vinciamone però una poi lo giriamo in explorer vinciamone una cioè onestamente il fatto che non abbiamo vinto contro Cancelli mi fa riflettere perché Cancelli non è un match appositivo di più quindi il fatto di non aver vinto contro Cancelli cioè cazzo Cancelli è proprio il mazzo contro cui i combo vanno a nozze cioè non ha una sola poi i combo creatura non c'ha manco un'interazione instant cioè proprio cioè greve non vincere contro Cancelli e Cancelli riscrivi su YouTube Scary Kool-Aid Kool-Aid allora abbiamo looting questo non si dovrebbe tenere questo non dovrei tenerlo questo non la tengo questa la tengo questa la teniamo la tua pace quanto mi penticò di togliere terra qua quanto no no questo è un historic un inutile fatal push ciao Calenda buonasera e lui ha scombato qua contro contro figuriamoci che cazzo devo fare qua cioè lui starà aperto per sempre di questi sul mio Grisfang li tolgo il vantaggio li tolgo il vantaggio che devo fare li tolgo il vantaggio e boh vediamo 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 andiamo alla prossima direttamente non perdiamo tempo con quel vantaggio ma allora tozza Dures fatal push no surgical no fragman servono perché c'ha gli affarini Liliana forte nave posso togliere se abbiamo nave qua forse sì vai sì secondo me un po' di varianza sfavore la stiamo avendo però il mazzo ha delle difficoltà se non è in best of one molto meglio però non ci arrendiamo per il momento questa è un keep è un ottimo keep tolgo un piromancer a nerd me lo tengo doppio di questi godo però è uguale no vabbè toglierò io tolgo patto tiriamo i removal e via questo allora allora ci riprendiamo pegomancer così peschiamo due e scartiamo terra ok oddio non che fragman serva qui però se fa qualche cosa di strano sta aperto di counter ok stai aperto di counter ok non ho capito cioè nel senso questa la può fare instant ah no pesca ok era aperto di counter più pesca ok 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 allora chi posso fare cose belle cioè provare a fare cose belle perché abbiamo a nerd va bene uguale su crucias c'è la spell pierce qua ah no c'è assicuro rimozione instant c'è rimozione instant su crucias ok patto dell'esilio ci prendiamo la la terra attacchiamo vai se peschiamo veicolo abbiamo moot più proctor sì va bene facciamo facciamo non all'inter non all'inter battlefield quindi posso tuttavia attaccare ci fratterà per carità uno lo togliamo eh son danni eh questi son danni questi son danni non se fa qualche cosa di non bello non credo vediamo un po' così come cazzo mi stava tappando scusami ah è vero cazzo è vero sono un pazzo cazzo è vero vabbè cioè toglierà Grisfang che te devo dire ok vai la topa è in due coppie a me voi direte perché c'ho una nerd c'ho una counter perché gli dà però in questo momento sicuramente sì allora se non ha allora possono succedere delle cose sta pensando di fare counter oh ci provo che te devo di lui sta pensando che io sto baitando le robe perché c'ho la topa no devo giocaterra tra l'altro vabbè con due vabbè che fai non la fai la fai a sto punto anche perché abbiamo perso di volante dopo quindi se si arremova il counter e tutto lo farà eh a voglia che c'è l'ha ha voglia che c'è l'ha peccato va a uno perderemo di quest'affare del cazzo volante porco due ma la vince una la vinceremo una la vinceremo non frega niente non ci arrendiamo dobbiamo vincerne una no è carta nuovista con la finale dovrebbe giocare l'Etheric i deserti dici beh effettivamente effettivamente venga te fai il slow the sunset l'unica cosa che rallenta quel te fai quel te fai è bruttino anche se per un periodo si giocava anche in paio se non sbaglio oh ne dobbiamo vincere una c'è una cazzo no voglio vincerne una con il topo una non ne chiedo di vincere dieci una devo mallegare più aggressivo probabilmente anche se sto mazzo lo 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 best one è diverso anche per la questione dell'etere best one era meglio vedi ma quante cazzo di volte mi è capitata sta cosa cazzo ti devo dire che tenevo di su 122 ci sta la topa c'è però vabbè non ce la mentiamo abbiamo fragment contro mono g non ce la mentiamo troppo il mut ci manca ma la nego questa non è che sia il massimo da elfo mi conviene comunque toglierla preferisco dargli un mana che 10 la topa la topa c'è manca manca a due mana fa quello là hanno file che perché non hai tappato questo cosa ci casca ci casa bollo appoggio abbiamo l'altro appoggiamolo nome canzone the great escape il futuro signore pioneer con for color landfall con l'osso nuovo in blomburo carla finita non controllo i messaggi su instagram da sei mesi ciao boss come stai carlo tutto bene li butto giù e poi dico poi controllo no carna porto due non si attivano gli artefatti tutto finito alla fine sto mazzo funziona non abbiamo vinta manco una quindi no adesso ci qua si va aggressivi abbiamo le frago andiamo dal push aggressivissimi preferisco fragment a triunfo sti per il drop a uno però aveva ragione patrick questi tre vanno bene con tre siamo precisi ne possiamo lasciare tre ne possiamo lasciare tre no allora però ieri in pioneer abbiamo fatto 4 a 1 secondo me in pioneer 4 a 1 in historic è diventato un formato cioè vorrei staccare ma aspetto la vittoria con te aspettiamole insieme aspettiamole insieme chissà si arriverà chissà si arriverà mai non me ne farà niente si kippa qua qui si kippa si kippa e adesso peschiamo grisfang veicolo adesso peschiamo e scombiamo di secondo adesso peschiamo grisfang veicolo adesso facciamo questa grisfang veicolo eh un fragment lo posso togliere va bene facciamo crucias con a nerd dai non fa schifissimo fare crucias con a nerd c'è di peggio nel mondo facciamo crucias con a nerd c'è potrebbe andare peggio dai crucias con a nerd buttiamo giuuu triunfo greeting ok crucias c'è quindi vai looting ringa riferisco tenere alert perché posso fare looting dopo il topo attenzione ciao cliff carissimo si esatto può essere bars qua noi abbiamo il topo e abbiamo l'artefatto giù e non può fare carne o c'è ci sono un po di cose positive ma perché sta slow play ando lui è l'outing è fortissima califo l'outing è proprio qualcosa di folle lotti 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 che non è l'ital però non è l'ital per cui devo mettere lo stop in up non è l'ital però ve lo dice un po di male glielo facciamo va uno qua mettiamo in ordine i trigger di crucias prima triggera il topo e poi crucias così questo ci torna in mano e con crucia se lo scartiamo questo è importante questa questa interazione preferivo fragment deve essere onesto possiamo comunque ciclarla per trovare fra come se dovessero succedere dei problemi però diciamo che anche se fa carne ha perso quindi questo ok non concede vabbè vuole perde tempo non concede va bene è uguale pieghiamo va così non ha voluto concedere attenzione che abbiamo vinto un game contro monogisone lo stiamo messi malissimo quindi dai sta slow playando ma dai cioè che gusto c'è hai perso c'è hai perso un board non so se è così difficile sto sto match up cioè se lui non fa carne in realtà abbo mettiamo un'altra tozza ciao atom buonasera vediamo cioè tecnicamente contro monogisone non è male se fa cavaliere di terzo e festival deve trovare comunque carne se non trova carne possiamo giocarcela noi sempre perché comunque facciamo cioè due angeli alla volta ovviamente deve incastrarsi anche con noi la cosa ma poi vado in bagno nel frattempo ma poi che interessa età che piocavano verde grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ma se n'è andato lui si è incazzato in questo modo un earth beat in needle no un po' senza mano tengo sti cazzi tengo tengo looting parterion cazzi e mazzi tengo 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 tolgo parterio voglio doppio looting qua è partito bene ci sono le terre attenzione attenzione anche tozza tensione tensione devo togliergli carne con tozza e cercare terra plotta ok tozza tozza troll dammi la terra anert va bene anert va bene anert va bene topo abbiamo anche mut per togliere i casini dopo vai abbiamo mut per buttarci giù parerebbe che c'è un altro ultimo abbiamo anche looting io faccio mut per avere un attacco in più per avere un attaccante in più cazzo pit in needle adesso so quindi quindi oppo ho sbagliato a fare che? che doveva fare questa così pescava dici? avevo pure un male in più sì non ha senso sì 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 aveva un male in più aveva due aveva due male in più adesso vabbè il male in più ce l'ha lo stesso avrebbe pescato mi state dicendo che non ha lui non ha out? no credo non abbia davvero out che cosa può fare? no oddio cavaliere blocca uno allora no aspetta doppio cavaliere non è l'ital per noi eh aspetta no doppio cavaliere è comunque l'ital sì doppio cavaliere è comunque l'ital perché noi comunque rifacciamo con topo questa cavaliere più carne è l'ital lo voglio rifare lo stesso voglio comunque rifare questo per il gusto di farlo eh troppo anerte cazzo ma via giù tutto ah c'era pure l'altro eh oh l'abbiamo vinto cioè io ho detto alle 10 devo andare via oggi sono le 10 e abbiamo vinto una partita cioè proprio tutto allineato come doveva succedere cioè perfetto oh l'abbiamo vinta una abbiamo vinto con il tir 1 cioè abbiamo perso quei mazzi meme perché cancelli un mazzo meme e abbiamo vinto contro il tiguro del formato dopo Grazie a tutti.